Grazie a tutti. In particolare io adesso farò vedere la parte di biosfera, geosfera e edrosfera e Roberto la parte di atmosfera e dei settori produttivi che contengono indicatori legati all'atmosfera, quindi trasporti, energie. Ma l'obiettivo era quello di cercare di offrire degli spunti di riflessione in merito a questi indicatori perché cercheremo di approfondire in particolare quei 49 indicatori, quindi cercheremo di prendere i contenuti proprio di quel documento a uso interno del sistema soprattutto, proprio per cercare di iniziare da qui a stimolare in qualche modo il sistema in primis e poi voglio dire tutta la platea. Quindi salutiamo ovviamente sia Pina che Marilu che sicuramente ci saranno seguendo i streaming. E iniziamo. Quindi per quanto riguarda la biosfera, la biosfera, diciamo l'impostazione stata data alla presentazione, ci ha dei quadri di riferimenti, quindi diciamo delle normative di riferimento che per la biosfera, ora non mi soffermo più di tanto, però ovviamente a livello europeo, direttiva abile, direttiva uccelli, sono le guida proprio in materia di conservazione della biodiversità, così come a livello nazionale la legge quadro sulle aree protette, però non mi soffermo più di tanto su questo, passo direttamente agli indicatori, visto che è il nostro lavoro. Sulla biosfera abbiamo individuato quattro indicatori tra quelli considerati fattibili da subito, perché tutti basati, non c'è un problema metodologico su questi, ma qui la convergenza era l'utilizzo della stessa fonte di dati, cioè c'è una fonte di dati unica sia per il livello nazionale sia per il livello territorio regionale, e quindi sono fattibili da tutti, oltre che appunto essere considerati rilevanti, ma quello va da sé per tutti e 109. Abbiamo indicatori sulla rete Natura 2000, le aree protette sia terrestriche e marine, incendi boschivi e consistenze dell'attività della pesca. Per quanto riguarda invece gli altri 5 indicatori che vedete qua, che rientrano pure sui 49, diciamo che, quindi superfici forestali, questi che vedete adesso li affrontiamo, in termini generali, quindi passano proprio agli spunti di riflessioni, già l'abbiamo visto nella fase di ricognizione di quei 1600 indicatori di cui parlavamo prima, sul tema ne abbiamo scensiti davvero pochi, cioè nel senso non tutte le agenzie, né i propri corsetti intertematici, hanno indicatori di biosfera. Il problema principale è la disponibilità dei dati a livello regionale, essenzialmente è quello, d'altronde stiamo parlando di un tema dove il monitoraggio in situ è fondamentale, ma è altrettanto evidentemente dispendioso sotto tutti i punti di vista, quindi è un tema dove è difficile trovare dei dati raccolti in maniera classica, sistematica, organizzata. Ecco, ma è la complessità stessa del tema, che in qualche modo rende difficile o non permette ciò. Quindi, diciamo, questo è giustificato da questo. Per quanto riguarda proprio i vari singoli indicatori, un cenno sulle superfici forestali. superfici forestali, la convergenza sembra possibile, ha detto appunto anche degli esperti, se impiegassimo tutti i dati dell'inventario nazionale delle foreste, quindi i dati del corpo forestale, ex corpo forestale, adesso un nome lunghissimo, dei carabinieri. però anche su quello, o anche su quello a livello nazionale, sul utilizzare quella fonte piuttosto che altre, anche a livello nazionale, c'è il dibattito che è ancora abbastanza in continua evoluzione, diciamo. Quindi su questo indicatore non è un discorso metodologico il problema che lo ha stoppato, diciamo non l'ha fatto passare dai frattibili da subito, ma di fatto occorrerebbe che come sistema, quindi più di alto è una scelta tra i tematici, si convergesse verso un'unica fonte dei dati. Idem vale per il livello di minaccia di specie vegetali. Anche questo è un indicatore che dovrebbe presentare sia la consistenza, quindi la checklist, sia il livello di minaccia. Le liste rosse esistono, dalle checklist nazionali e dalle liste rosse si possono ricavare dati regionali. Abbiamo, però in alcuni indicatori censiti, abbiamo dedotto che esistono anche delle, cioè che alcune agenzie utilizzano delle proprie liste rosse regionali, e quindi anche qua è un problema di convergenza sulla stessa fonte dei dati. E quindi abbiamo lasciato più che altro un discorso, appunto, non essendo un discorso metodologico, è meglio che siano gli esperti tematici quando affrontano il tema, che pensano anche a questo gap informativo in termini di indicatori ambientali. Su questi altri due indicatori, quindi distribuzione del valore ecologico secondo carta natura e gli habitat, sempre legati a carta natura, essendo carta natura realizzata ancora solo per 12 regioni, è evidente che non era fattibile da tutti allo stesso modo. L'avremmo potuto metter, nel senso perché l'abbiamo metter, l'abbiamo inseriti, perché i dati di base che provengono da quell'attività e che quindi poi possono essere riassunti con questi indicatori, sono dei dati, in qualche modo, permettono di descrivere, permettono di monitorare degli aspetti della biodiversità fondamentali. Quindi in qualche modo questi due indicatori sono uno sprono per cercare in un attimo di trovare anche lì una convergenza, magari utilizzando delle fonti territoriali aggiuntive. Infine, zone umide. Anche qua, la convergenza sulle zone umide di importanza internazionale, quindi sulle aree Ramsar, c'è. Perché però non l'abbiamo considerato fattibile da subito? Perché è vero che non tutte le regioni hanno aree Ramsar, ma questo non sarebbe neanche un problema, vedi le regioni costiere con gli indicatori relativi a quell'argomento. Però anche chi ha aree Ramsar, ci sono alcuni che magari hanno una sola aree Ramsar. E allora un indicatore strutturato in questo modo, quindi con una scheda metadati, con dei commenti, che deve avere, diciamo, che perde di significatività a punto di vista locale, a livello territoriale. In più, e questa invece è un'opportunità, abbiamo censito, mi ricordo sicuro l'ARPA Piemonte, non mi ricordo se ci sono anche altre agenzie, che tra i loro indicatori hanno dei indicatori sulle zone umide, non Ramsar. Quindi probabilmente abbiamo riflettuto che forse un approfondimento tematico potrebbe far sì che magari si trovasse un modo per o estendere questa modalità di classificazione delle zone umide nelle altre regioni, e quindi creare un indicatore un po' più corposo in termini di informazione ambientale, dove non quei problemi di avere poca informazione da fornire nella scheda indicatore, diciamo, veniva superato. Quindi, diciamo, in realtà il problema principale era qui la scelta della fonte dei dati unica, essenzialmente per questi indicatori. Sono tutti indicatori che in ogni caso ISPRA a livello nazionale riesce a fare, però è ovvio il problema è il dato regionale. Forse l'utilizzo, le nuove opportunità proposte da Copernico, potrebbero agevolare il popolamento di questi indicatori, quindi a quel punto il sistema potrebbe avere un'unica fonte valida per poter popolare questi e a quel punto anche altri tipi di indicatori. Passando alla geosfera, qui per fare la slide sui riferimenti normativi, qua vedo un amico, è stato un po' complicato, nel senso che, risaputo che i riferimenti normativi sono piuttosto scarni sul tema, sul tema suolo in generale. Sul consumo di suolo, qualcosina siamo riusciti a dirla, nel senso che, tra l'altro, è un tema ormai presente anche nella, è citato proprio nella legge istitutiva del sistema, appunto nella 132, e a livello europeo se ne occupa l'Agenzia Europea per l'Ambiente, quindi è un'attività che appunto coinvolge, coinvolge e GRC, e coinvolge quindi il sistema, quindi ISPRE e il sistema, e in ogni caso possiamo anche dire che il monitoraggio del territorio del consumo di suolo rientra anche nell'ambito dei servizi LENDE di Copernicus, e inoltre anche nel programma statistico nazionale, perché appunto ISPRE ha un'indagine, quindi proprio sul consumo di suolo, proprio nel programma statistico nazionale. Quindi diciamo qualche riferimento più o meno normativo siamo riusciti a farlo. Per quanto riguarda invece gli altri aspetti della geosfera, mi riferisco a qualità dei suoli, uso del territorio, gerosorse, ambiti geologici in senso stretto, purtroppo c'è il combinato disposto di tre negatività, che non so che tipo di problema crea, ma il fatto sta che, cioè mi riferisco alla manca una normativa nazionale, o europea, che si è bloccata qualche anno fa, di indirizzo su questi argomenti. Di conseguenza manca una rete di monitoraggio dei suoli, ad eccezione di alcune regioni del nord, quindi Piemonte, Veneto, Emilia Romagna. La speranza è che al momento è incluso, quindi l'attivazione di queste reti di monitoraggio del suolo, è incluso nel catalogo dei servizi del sistema. Quindi speriamo che questo possa in qualche modo agevolare il processo. E infine la terza negatività, diciamo che talvolta, pur essendo la competenza di materia regionale, non è delle agenzie. E questo quindi, ci sono tutti diciamo discorsi di comunicazione e istituzionale fra i vari enti per poi arrivare quindi agli indicatori. Ecco, questo quadro in qualche modo spiega come mai per la geosfera in testa in senso stretto abbiamo individuato soltanto un indicatorino sul consumo di suolo. Mentre tutti questi altri indicatori che vedete qui, relativi quindi agli altri aspetti, a livello nazionale vengono fatti, perché in qualche modo Ispra, perché il problema anche qua è il dato regionale, Ispra in qualche modo riesce con le regioni, con il CREA, insomma con altre istituzioni, riesce a dare un'informativa tramite questi indicatori di livello nazionale. Il problema al solito, l'obiettivo nostro era quello di mettere tutti nelle condizioni di poter fare l'indicatore allo stesso modo per descrivere gli stati dell'ambiente e dei propri territori. Quindi da questo punto di vista il problema si pone. Quindi tra gli spunti di riflessione quello che abbiamo cercato di rappresentare appunto poi alla fine anche nel documento è proprio che c'è la necessità di lavorare insieme nel sistema proprio per cercare di individuare un iter che possa garantire quella convergenza necessaria. Così come abbiamo ritenuto auspicabile la realizzazione di una propedeutica indagine interna al sistema per valutare il tipo di dati disponibili nelle varie agenzie, e i rapporti con gli altri enti regionali e su questo siamo stati in qualche modo non so quanto abbiamo influito non lo so, fatto sta che a fine 2016 il tavolo nazionale dei servizi di geologia si è istituito dove partece appunto il sistema e le regioni e quindi come prima attività ha proprio fatto una sorta di indagine più o meno conoscitiva però una serie di informazioni con cui si potrà approfondire noi come uffici di statistica non siamo stati coinvolti possiamo essere assolutamente a supporto e disponibili però perché in qualche modo può avere un ritorno su questi indicatori. Perché dico questo? Perché appunto è stato sottolineato dai vari esperti che occorre quindi questo sfruttamento dei giacimenti informativi già indiretti ma già presenti nelle agenzie in altre attività di controllo cioè quindi quando si fa le attività sui siti contaminati sulla gestione dei rifiuti monitoraggi via eccetera eccetera lì si possono organizzare quella serie di informazioni utili per indicatori per fare indicatori su questo tema e in maniera ovviamente si tratta di organizzarli in maniera strutturata. Sempre per quanto riguarda la geosfera o comunque nell'albero della geosfera quindi parlando della pericolosità di origine naturale come sottotema anche qui valgono le tre considerazioni di prima le tre difficoltà di prima tra l'altro un argomento poco trattato dalle agenzie ad esempio tra le poche eccezioni ad esempio l'ARPA Emilia Romagna monica la subissidenza regionale e quindi si auspica che le agenzie in qualche modo possono estendere le proprie analisi anche a questi fenomeni geoambientali perché hanno delle ripercussioni inevitabili sui impatti sulle matrici ambientali. Ecco che qui tra i 49 indicatori su cui c'è da lavorare abbiamo individuato la distribuzione delle frane tanto per coprire il tema abbiamo individuato un indicatorino questo indicatore perché le frane piuttosto che altro semplice perché di fatto esiste già una base informativa più o meno strutturata mi riferisco al progetto IFI e a tutte le esperienze regionali quindi in qualche modo si era un po' più forti su cui partire quindi di fatto lo spunto di riflessione finale è appunto quello di affrontare questi temi in maniera univoca questi temi legati anche al distesso idrogeologico discorso più o meno analogo è per i siti contaminati per questa tematica appunto già la nostra analisi non aveva iniziato alcun indicatore non solo già nel censimento iniziale dei 1600 indicatori abbiamo trovato pochissimi indicatori sull'argomento e non confrontabili assolutamente quindi già nel documento si parlava di che sarebbe stato utile un archivio unico di sistema su questo argomento quindi sui dati di base di questo argomento lì immagino a detta del coordinatore sì ma siamo stati di stimolo infatti a giugno è stata istituita una rete di riferimenti proprio dedicata alla fattibilità alla verifica della fattibilità di questo database di sistema sui siti contaminati che quindi dovrà contenere a regime quindi caratteristiche della contaminazione matrici interessate contaminati presenti insomma tutta una serie di informazioni pur non di meno noi avevamo individuato come minimo comune denominatore su cui tendere è quello dell'indicatore totale siti coinvolti nella procedura di bonifica che siano quindi che è una determinata del totale dei siti che sono oggetto di procedimento di bonifico oppure conclusa però sicuramente quella rete riferimenti se parte appunto se arriverà a crearsi questo database saranno anche più di uno potenzialmente gli indicatori fattibili da tutti allo stesso modo su quanto riguarda l'idrosfera sarà ancora più veloce perché vi vedo stremati e lo sono anche io riferimento qui è più facile sebbene appunto parliamo di vari tipi di acque gli indicatori sono relativi a acque superficiale sotterraneo marino costiere di balneazione e quant'altro però in realtà lì c'è la direttiva europea sulle acque la direttiva quadro sulle acque la 2060 che in qualche modo ti indica che indicatori utilizzare e ti dice come utilizzarli proprio per il monitoraggio delle acque ecco che quindi è stato facile tra l'altro cosa è stato facile è stato facile che questo lavoro lo abbiamo fatto casualmente più che altro in prossimità con la scadenza del 2015 della qualità delle acque quindi in qualche modo questo ha agevolato l'individuazione di indicatori fattibili da tutte le realtà perché appunto del sistema perché le devono fare abbiamo lasciato tra i 49 indicatori di consumo di acqua pitabile non perché c'è una reale criticità voglio tranquillizzare qualche collega di Istat che ho visto in sala non è un problema di una criticità metodologico o quant'altro infatti negli spunti di riflessione appunto insomma che sono gli indicatori più diffusi l'abbiamo fatto vedere nel grafico stamattina che la direttiva appunto che la la 2060 aiuta perché richiede gli indicatori ma soprattutto su quell'indicatore sul consumo di acqua potabile lì il problema è semplicemente capire diciamo sarà popolabile a breve immagino il problema è capire semplicemente la prioricità di aggiornamento di questo indicatore e quindi la diffusione che nell'ultimo decennio è stata piuttosto variabile in quanto prima c'era un censimento il censimento di acqua uso civile che fa Istat che prima si faceva ogni 5-6 anni poi con l'ausilio del Dipartimento Polite di Coesione hanno anticipato l'annoresa triennale fatto sta che insomma data la mole dei dati essendo un censimento non sempre non si sa mai bene quando escono questo tipo di dati quindi semplicemente questo sarà rientrerà facilmente fra i 60 a questo punto vi prometto che non parlerò più e passo la parola a Roberto per il proseguo della presentazione buongiorno a tutti mi chiamo Roberto Mallegni innanzitutto devo ammettere che è un po' difficile succedere a Giovanni che è uno sciomè fantastico e voglio dire che magari se vuoi continuare a finire anche la mia io non ho nessun problemi perché sei andato benissimo io lavoro per Arpae Emilia Romagna mi occupo di reporting ambientale da un po' di tempo ieri parlando con alcuni colleghi anzi anche stamattina ci siamo definiti dei reporting insauri perché è un po' di tempo che lavoriamo sull'argomento la mia presentazione verterà brevemente sulla descrizione dell'attività del gruppo di lavoro per quanto riguarda la matrice il tema dell'atmosfera innanzitutto una breve una breve carrellata per quanto riguarda appunto i riferimenti normativi che come potete vedere dalla slide il famoso decreto legislativo 155 del 2010 attuazione della direttiva 50 2008 direttiva europea che ha facilitato diciamo fortemente l'attività di standardizzazione della metodologia utilizzata appunto per quanto riguarda il calcolo del popolamento degli indicatori relativamente alla matrice qualità dell'aria beh questa norma è sicuramente un punto di riferimento per la gestione appunto omogenea e coordinata sul territorio nazionale della qualità dell'aria del risanamento atmosferico come appena anticipato tra gli aspetti innovativi legati a questo decreto legislativo la ridefinizione della zonizzazione del territorio nazionale e conseguentemente anche della rete di monitoraggio della qualità dell'aria ad essere associata quindi del sistema con cui misurare la qualità dell'aria inoltre sempre parlando di questo riferimento normativo nell'ambito del tale decreto legislativo è stato dato la possibilità di ricorrere ampiamente alla modellistica con la possibilità di ridurre in tal modo il numero di stazioni di misura che concorrono a far parte delle reti di monitoraggio delle singole regioni passando nel dettaglio agli indicatori relativamente al tema qualità dell'aria beh innanzitutto come già stato sottolineato c'è stata una forte collaborazione con un gruppo di alto gruppo intertematico di lavoro che era quello a cui hanno partecipato varie agenzie quello finalizzato appunto alla definizione dei contenuti e quindi di linee guida per la redazione di una relazione sullo stato dell'ambiente scusate sulla relazione sulla qualità dell'aria di sistema per quanto riguarda la distinzione fra indicatori che appartengono al set comune oppure quelli che potenzialmente saranno popolabili in futuro in realtà è stata una suddivisione non basata su reali motivazioni metodologiche perché come ho detto appunto la norma permette una forte ha permesso una forte standardizzazione da un punto di vista metodologico relativamente ai vari indicatori quanto piuttosto alla rilevanza dal punto di vista della criticità di determinati inquinanti e degli indicatori che chiaramente ne misurano la consistenza dal punto di vista dell'impatto ambientale e gli indicatori come vedete sono quindi quelli legati al particolato atmosferico PM10 PM2 e mezzo lo zono il biossido azoto il biossido zolfo e benzene per quanto riguarda quelli invece popolabili in futuro oltre al monossono di carbonio il benzo apirene che è un inquinante molto importante trattato fra l'altro anche nell'ultima edizione del report sulla qualità dell'area dell'agenzia europea e anche i metalli pesanti per quanto riguarda alcuni brevi spunti di riflessione innanzitutto posso dire che appunto per la valutazione della qualità dell'area la normativa consente il regolamento all'uso di tecniche modellistiche e tuttavia solamente a quanto risulta il gruppo di lavoro 22 solamente 12 ARPA ne fanno uso di questa tecnica inoltre c'è una forte disomogeneità fra le varie ARPA riguardo i gradi di sviluppo e tipologie di modelli utilizzati come vedremo in seguito in realtà la modellistica è molto importante sia per quanto riguarda la qualità dell'area ma anche per alcuni indicatori che vedremo in seguito tuttavia è elevato il livello appunto di armonizzazione sul tema della qualità dell'area ma alcuni approfondimenti tecnici dal nostro punto di vista sono ancora necessari sulle regole di definizione delle base dati per esempio con particolare riferimento agli obiettivi di qualità cioè per la percentuale di numeri necessari per il calcolo della qualità dell'area per quanto riguarda i dati derivanti da una determinata sezione di monitoraggio per quanto riguarda per esempio il PM10 è un 90% ci sono alcuni problemi per quanto riguarda invece il calcolo l'esclusione di quei dati o la perdita dei dati legati alla manutenzione e alla calibrazione della strumentazione che non è omogenea su tutto il territorio del sistema nazionale di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il tema invece delle emissioni anche qui collaborazione col gruppo di lavoro competente che è il 25 armonizzazione degli inventari locali delle emissioni il SED indicatore comuni è stato individuato un indicatore che in realtà è un indicatore multiplo come vedete cioè le emissioni di PM10 dell'NOX di ossido di azoto di carbonio composti organici volatili non metanici ammoniaca per quanto riguarda invece gli indicatori popolabili in futuro le emissioni di gas serra alcune riflessioni su questi indicatori beh innanzitutto possiamo dire che il livello di armonizzazione delle stime delle emissioni a livello regionale si può considerare accettabile però per quanto riguarda i totali degli inquinanti cioè il contenuto totale dell'emissione totale di quelli determinati inquinanti quando invece si va ad una scala di maggior dettaglio emergono una serie di criticità che sono legate prevalentemente alla differente disponibilità a livello locale delle informazioni stesse informazione quindi dati dai quali puoi partire per il calcolo di quegli indicatori prossimi che servono poi ad andare a quantificare e stimare l'emissione quindi in pratica esiste una base metodologica uniforme ma la disponibilità poi dei dati alla quale applicare quella metodologia non è così uniforme parlando sempre di livello locale quindi regionale e di disaggregazione per settore di emissione dei singoli inquinanti un altro problema relativamente al discorso delle emissioni in atmosfera legato al fatto che spesso tutte le regioni e le province hanno un inventario ma spesso la responsabilità anzi la responsabilità della realizzazione di questi inventari è quella e delle regioni ed è una cosa che non sempre aiuta perché a volte non si avvalgono neanche di ARPA e quindi inoltre è necessario un approfondimento metodologico a livello di sistema nazionale di protezione dell'ambiente in merito alla metodologia di elaborazione dell'indicatore emissione di gas serra in particolare passando un ulteriore sottotema sempre nel tema dell'atmosfera cioè ambiente e benessere questa volta sono stati individuati due indicatori che sono quello dell'esposizione della popolazione inquinanti atmosferici per quanto riguarda il PM10 e per quanto riguarda anche l'ozono relativamente ai set indicatori potenzialmente popolabili in futuro invece abbiamo la stagione pollinica allergenica e l'indice pollinico allergenico io su questa cosa sono molto sensibile perché mi ridefinisco una sorta di centralina a due zampe perché sono in preda tuttora anzi è proprio oggi in questo momento di un attacco allergico per quanto riguarda gli spunti di riflessione possiamo dire che possiamo dire che sicuramente il PM2 e mezzo può ritenersi prioritario ovviamente per la sua particolare rilevanza per la salute della popolazione in quanto le polveri ovviamente più sottili sono più è facile che penetrano nel sistema respiratorio dell'essere umano ed è fra l'altro un inquinante che è considerato ovviamente dal decreto legislativo 155 tuttavia nonostante gli obblighi di legge i dati sul PM2 e mezzo non sono adeguatamente disponibili per tutte le regioni quindi questo è un problema strutturale non metodologico e pertanto in alternativa si ritiene comunque che l'indicatore relativo al PM10 possa essere considerato come migliore proxy per valutare l'esposizione della popolazione tale inquinante e inoltre un'altra considerazione relativamente a questi indicatori sull'esposizione della popolazione alle inquinanti credo che sia auspicabile la diffusione presso tutte le agenzie del sistema nazionale di protezione dell'ambiente di tecniche modellistiche omogenee fra loro anche per facilitare quindi una valutazione dell'indicatore sulla popolazione esposta un esempio per esempio Arpae Emilia Romagna dove grazie appunto a queste valutazioni modellistiche è possibile spalmare la concentrazione dell'inquinante anche a livello di una maglia di un chilometro per un chilometro e quindi incrociando questi dati con la popolazione residente che ovviamente i dati sulla popolazione residente hanno anche poi altri problemi perché chiaramente non contemplano tutta la popolazione presente ma solamente quella appunto che è residente in quel luogo incrociando quindi i dati istat sulla popolazione residente si riesce quindi a calcolare con più precisione la popolazione esposta un'ulteriore riflessione sempre su questo sottotema ambiente benessere riguarda invece il settore dei pollini dove esiste da citare ovviamente una rete che è Polnet che è una rete permanente del sistema nazionale di produzione dell'ambiente a cui partecipano diverse agenzie ma anche altri enti molti appartenenti al settore della sanità e possiamo dire che è necessario che la rete di monitoraggio dei pollini allergenici cresca in termini di numero e di stazioni di misura per garantire un'adeguata uniforme rappresentatività dei dati per tutte le regioni ci sono alcune regioni dove magari ci sono solamente due stazioni due punti di monitoraggio fra l'altro ravvicinati fra di loro e quindi anche i dati che vengono raccolti in quel caso con molta probabilità anzi sicuramente non sono altamente rappresentativi della realtà regionale intera e si auspica quindi la risoluzione di questa problematica strutturale e quindi non metodologica affinché i due indicatori possono presto essere popolati da tutte le realtà del sistema nazionale di protezione dell'ambiente e quindi entrare a far parte del corset degli indicatori comuni di sistema passo adesso al tema del sottotema del clima dove non è stato individuato e non è stato possibile individuare nessun indicatore comune e abbiamo invece due indicatori per quanto riguarda quelli popolabili potenzialmente in futuro che sono la temperatura e le precipitazioni che va sottolineato sono due indicatori fondamentali per esempio per la valutazione di cambiamenti climatici che è un tema estremamente importante possiamo dire che per motivi che vanno al di là del nostro sistema nazionale di protezione dell'ambiente cioè l'assenza per esempio di un servizio meteorologico nazionale allo stato attuale quindi non è stato possibile non sia in condizione di poter garantire questi due indicatori non siamo in grado di garantire indicatori sul clima realizzati allo stesso modo da tutte le realtà del sistema nazionale di protezione dell'ambiente è da menzionare tuttavia il SCIA che è un sistema nazionale per la raccolta elaborazione e diffusione dei dati climatologici di interesse ambientale che utilizzando metodiche di elaborazione di dati condivise a livello nazionale e sovranazionale riesce a gestire le varie fonti dati di base e a fornire indicatori climatici su scala nazionale a livello invece locale il problema si fa più consistente dove gli archivi e le basi dati sono piuttosto disomogenee tuttavia si ritiene appunto che almeno in futuro indicatori chiave per il tema del clima quindi dei cambiamenti climatici quali ad esempio la temperatura e le precipitazioni devono entrare a far parte sicuramente di un set comune degli indicatori del sistema nazionale di protezione dell'ambiente passando all'energia qui abbiamo individuato quattro indicatori che sono come li vedete come vedete consumi finali di energia elettrica la produzione e gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili la produzione di energia elettrica per fonte e i consumi finali totali di energia quelli popolabili in futuro le emissioni di gas serra complessive e dai processi energetici ovvio che gli indicatori per quanto riguarda l'energia sono numerosi perché numerose sono le fonti disponibili a livello nazionale e regionale Terna il GSE il MISE Enea eccetera tuttavia passando a livelli di disaggregazione più di dettaglio quindi un downscaling sono necessarie metodologie condivise che tuttora non del tutto sono presenti nel sistema inoltre è necessario un approfondimento metodologico a livello di sistema nazionale di protezione dell'ambiente in merito alla metodologia di elaborazione dell'indicatore emissione di gas serra e quindi delle conseguenti stime di tali emissioni altro settore questa volta passato sempre del tema settori produttivi come lo era precedentemente l'energia cioè quello dei trasporti nessun indicatore è stato individuato come indicatore comune e sembra come dire di prima chito una cosa abbastanza strana e fra gli indicatori invece potenzialmente popolabili la flotta veicolare disaggregata chiaramente per livello di sostenibilità del motore fondamentalmente di questi autoveicoli così come anche l'emissione di inquinanti atmosferici dai trasporti in realtà il discorso della mancata individuazione di un indicatore da inserire nel set comune deriva dal fatto che non viene utilizzata sempre la stessa fonte in alcuni casi ACI in alcuni casi invece il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto che però ha dei dati molto più precisi e affidabili sul tema e comunque quindi sono difformi le fonti fra le varie agenzie e poi va anche detto che è un indicatore che progressivamente lo si è cominciato ad utilizzare sempre meno nel set di indicatori utilizzati per descrivere in pratica la qualità del nostro ambiente questo perché alcune agenzie come per esempio la nostra ha cercato di dopo le prime fasi i primi anni in cui il set andava crescendo il set di indicatori anno dopo anno si è cercato di ridurre il set a quelli che sono gli indicatori più importanti almeno come quelli ritenuti tali per descrivere appunto lo stato dell'ambiente e dando ovviamente una priorità a quelli a cui fonti dati ovviamente sono l'agenzia stessa passo subito alle riflessioni finali ho quasi finito beh innanzitutto ho citato il discorso della modellistica secondo me in un vero sistema nazionale di protezione dell'ambiente è aspicabile il ricorso a tecniche modellistiche uniformemente diffuse e standardizzate su tutto il sistema questo perché come vedete è importante non solamente per il discorso qualità dell'aria ma anche per il discorso esposizione della popolazione agli inquinanti che nell'aria purtroppo ci sono altra considerazione riguarda la base dati come ho detto prima il decreto legislativo 155 del 2010 sulla qualità dell'aria effettivamente rappresenta un elemento fondamentale per la standardizzazione delle metodologie utilizzate per il calcolo dei vari indicatori tuttavia sulle base dati qualcosina è ancora secondo me da allineare per esempio come ho riportato nella slide la differente quantificazione delle perdite di dati raccolti dalle centraline di misurazione della qualità dell'aria a seguito della taratura periodica della manutenzione ordinaria della strumentazione di misura stessa nella valutazione del ragionamento degli obiettivi di qualità cioè della percentuale di dati validi quello che menzionavo precedentemente per esempio in ARPA e Emilia Romagna vengono considerati reali giorni di perdita di dati a livello in altre situazioni vengono utilizzate delle percentuali del 5% come livello standard di perdita di dati e quindi ovviamente non dico quale sia giusto quale sia sbagliato ma le due cose non coincidono del tutto per quanto riguarda gli inquinanti rilevati quindi anche qui è auspicabile un'uniforme diffusione e densità degli stessi dati su tutta la rete del sistema nazionale di protezione dell'ambiente un'uniforme diffusione e derivamento di alcuni inquinanti particolarmente preoccupanti per la salute ma nel quale il PM2,5 ovviamente ma anche il benzo pirene che come ho detto precedentemente è sicuramente una problematica anche a livello europeo in particolare in alcune zone dell'est Europa il settore delle emissioni è un altro settore appunto come ho prima rilevato da approfondire sempre con degli esperti tematici e con anche gli esiti del gruppo di lavoro appositamente costituito nell'ambito del sistema nazionale di protezione dell'ambiente che aveva lo scopo appunto di rendere uniformi le metodologie di costruzione degli inventari delle emissioni di livello locale però come dire ci sono difformità di calcolo dell'emissione a livello regionale le quali pur se basate su una stessa metodologia che è quella il guidebook del 2016 di AMEP Agenzia Europea per l'Ambiente possono differire a scala locale a seconda delle basi dati utilizzate e questo è purtroppo un dato di fatto occorre ancora lavorare un pochino su questo e qui ho finito questa è la mia ultima slide che in realtà come dire sembra un po' fuori dal contesto quello che vedete è uno schema un flow chart che è stato estratto dall'ultima edizione del nostro annualio di dati ambientali di Arpae Emilia Romagna e questo schema che ovviamente noi ci eravamo riproposti di farlo molto semplice in realtà molto semplice come vedete non lo è perché è pieno di frecce che collega il mondo doveva essere semplicemente un banale esercizio di rappresentazione grafica della lista della spesa delle cose che un'agenzia come la nostra Arpae Emilia Romagna svolge alla luce della sua come dire riorganizzazione nel 2015 legge 13 regionale che ha visto come dire l'allargamento delle competenze agenziali oltre alle normali delle agenzie tra virgolette standard se così possiamo definirle anche allargamento appunto delle competenze anche al settore energia al settore delle autorizzazioni ambientali al settore delle concessioni quindi abbiamo voluto spiegare più o meno semplicemente attraverso uno schema quelle che sono le competenze dei cittadini le nuove competenze dell'agenzia e di correlarle a quelli che sono i fattori che trovate più sulla destra della slide i fattori che causano poi la perturbazione delle qualità dell'ambiente classificate secondo lo schema di PSR cioè i determinanti e le pressioni e le nostre attività sono state poi collegate da frecce a questi fattori per far vedere che noi non è che facciamo le cose tanto per farle ma perché ogni cosa ha un suo scopo facendo questo esercizio abbiamo scoperto permettetemi il termine l'acqua calda cioè quello che alla fine al centro di tutto c'è una casella che è quella dei dati tutte le nostre attività partono da qui o perlomeno sarà meglio che partano da qui per fare per svolgere le attività come dire più centrate ed efficaci e efficienti sull'ambiente quindi in pratica al centro di tutto c'è una conoscenza una conoscenza omogenea ed uniforme a questo punto termino con un auspicio e l'auspicio è che si continua ad investire all'interno del sistema nazionale di protezione dell'ambiente su questa conoscenza uniforme e omogenea per realizzarla sempre di più e pienamente nella nostra rete di agenzie nazionali e regionali perché tale conoscenza è fondamentale non sappiamo qualcosa anche noi a livello di agenzia dove abbiamo investito molto e abbiamo realizzato questo tipo di situazione c'è una conoscenza omogenea e uniforme su tutto il nostro territorio regionale bisogna continuare a investire a livello nazionale su questo settore perché credo che sia uno come è stato detto anche stamattina una delle soluzioni più importanti per trasformare una legge importante come la 132 istitutiva appunto del sistema nazionale di protezione dell'ambiente da una legge ottima per l'ambiente per la rete agenziale sulla carta in un'ottima legge nella realtà andando far altro a realizzare quelli che sono obiettivi fondanti della stessa legge qui anche se faccio un po' fatica a leggerlo perché ho scritto in piccolo magari voi lo leggete meglio all'articolo 1 assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche sostenibilità eccetera 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 di questo stiamo parlando quindi è importante investire e realizzare questa conoscenza uniforme e omogenea tutto questo perché è a vantaggio dell'efficacia e efficienza delle politiche attuate sull'ambiente e le politiche per la sostenibilità ambientale e conseguentemente tutto questo è a vantaggio per la qualità del nostro ambiente per lo sviluppo realmente sostenibile ma soprattutto per la qualità della vita dei cittadini che in tale ambiente si trovano a vivere e con questo vi ringrazio e saluto grazie grazie Roberto grazie Giovanni per questa esauriente presentazione in cui ci avete dato l'elenco degli indicatori popolabili da subito ma anche avete messo in evidenza tutte quelle difficoltà o priorità su quale il sistema deve investire e condivido pienamente le ultime affermazioni di Roberto che devono essere motore trainante per tutto il sistema però